Il ristorante a mare a Salerno, all'interno dello stabilimento balneare Sigarde, una vera terrazza sul mare a Salerno. In vista della stagione di Serie C 2020-2021, nella speranza che essa possa regolarmente iniziare, la Cavese ha già effettuato diversi sondaggi relativamente ai calciatori che potrebbe voler avere in squadra. Considerata la necessità di gestire le risorse per provvedere a sanificare regolarmente gli impianti e rispettare il protocollo anticontagio, l'obiettivo sarà risparmiare sugli ingaggi e puntare ovviamente sul gioco collettivo di squadra anziché sui nomi. Oltre ai giocatori già citati nei giorni scorsi, Russo, Vitale e Fusco, ultimamente è venuto fuori il nome di Aldo Cagliazza, difensore centrale classe 99 che ha giocato nel Cerignola. E inoltre si è parlato di Pietro Ciotti, esterno destro che nell'ultimo campionato è stato nella Vibonese. E inoltre potrebbe interessare il difensore Enrico Altobello, Cavese-Doc, che il neoallenatore metelliano Giacomo Modica ha già avuto. Sarà importante inoltre che il club consegni al mister un cosiddetto regista di centrocampo. Questo tipo di giocatore è spesso mancato nell'ultimo campionato a Moriero e a Campilongo, ma per Modica è comunque importantissimo avere un calciatore così, un uomo d'ordine che sappia dare geometrie e tempi a tutta la squadra. Nel frattempo si torna a parlare di quali possano essere le possibilità di vedere i tifosi negli stadi d'Italia per la stagione che inizierà tra un mese e mezzo. La proposta del presidente della Federcalcio, Gravina, sarebbe di consentire l'accesso a un quantitativo di pubblico non superiore al 25% della capienza dell'impianto. Una soluzione che però viene vista poco di buon occhio dalle varie tifoserie d'Italia, in quanto penalizzerebbe comunque molti altri sostenitori che resterebbero fuori dallo stadio. Intanto al Simonetta Lamberti si registra qualche intervento svolto stamattina sulla torre faro montata sulla parte sinistra, guardando la partita dalla tribuna centrale, ma un intervento elementare che riguardava l'inclinazione dei faretti che andavano indirizzati meglio. In questi giorni il nuovo sistema di illuminazione è stato provato e ha dato risultati importanti, ma non è escluso che anche qualche faretto delle altre torri faro debba essere direzionato meglio. La società cavese ha inoltre confermato la collaborazione con il centro Teri, riabilitazione e medicina fisica, che opera da oltre 30 anni a Cava. Grazie a tutti.